Buongiorno e benvenuti alla nostra rubrica di didattica digitale. Oggi vorrei parlarvi di Firewall, un sito che ci permette di avere laboratori per docenti ma anche per studenti per poter affrontare il cyberbullismo. Sappiamo che il 23% degli adolescenti trascorre almeno 5 ore su internet e il 44% ha uno strumento mobile per poter consultare i siti in ogni momento. Questo significa che i social network e in generale il mondo digitale è diventato parte integrante della vita dei nostri ragazzi. In pratica non fanno altro che costruire la propria identità giorno dopo giorno attraverso questi strumenti e molto spesso non ne parlano con i propri genitori. È dimostrato che 7 adolescenti su 10 non rispondono alle domande dei genitori riguardo all'attività che svolgono su internet e 5 confessano di aver paura di raccontare loro alcuni episodi spiacevoli accaduti proprio sui social. Bene, quindi come difendersi è fondamentale. Firewall, che può essere utilizzato anche semplicemente collegandosi alla loro pagina Facebook e quindi capendo quali sono le opportunità di corsi, offre proprio questo, la possibilità di offrire ai ragazzi degli strumenti ma anche agli stessi docenti degli strumenti per poter capire i propri studenti. Perché incrementare le proprie conoscenze nel campo della tecnologia significa anche sapersi difendere.